La Regione Lazio ha emesso l'ordinanza che disciplina l'utilizzo dei mezzi pubblici in vista della fase 2. Tante le disposizioni previste, interruzione del servizio alle 23.30, niente aria condizionata, 40 passeggeri massimo per ogni autobus e 600 per ogni treno, possibilità da parte del conducente di saltare le fermate in caso di sovraffollamento, utilizzo di contapersone, obbligo di mascherine, igienizzazione e sanificazione delle vetture, adesivi sui sedili da non occupare, installazione di dispenser con gel, distanziamento di un metro, percorsi diversi per ingresso e discesa dal mezzo. Tuttavia nel documento mancano le sanzioni per i trasgressori e l'ATAC si è già tirata indietro sulla responsabilità dei controlli. È impossibile effettuare questo tipo di prestazione a causa della rilevante quantità di personale aggiuntivo, stimabile in 5.000 persone, che si renderebbe necessario, dichiara la municipalizzata. Se le cose stanno così, suggerisce il consigliere Capitolino Davide Bordoni, non si capisce il senso di lasciare a casa migliaia di dipendenti della Multiservizi. Sarebbero un valido aiuto nelle verifiche. Dello stesso avviso il presidente del Comitato Lavoratori Roma Multiservizi, Franco Gaetani, che afferma Ci impieghino in mansioni utili per dare il nostro contributo. Sulla vicenda è intervenuto anche Raimondo Grassi, presidente del movimento Roma Sceglie Roma, che propone di mettere alle fermate gli uomini delle forze dell'ordine e della protezione civile.